Le hanno già ribattezzate le primarie della discordia per via della contrapposizione nel PD tra i vertici attuali che sostengono Gianni Cuperlo e il governatore Paolo Frattura che è sceso in campo in prima persona nella lista che appoggia Matteo Renzi. Il segretario Danilo Leva non ha usato mezzi termini bocciando la decisione di Paolo Frattura definita inopportuna e denunciando il possibile condizionamento del risultato finale da parte di forze politiche alleate ma estranee al PD ovvero Italia dei Valori, Comunisti Italiani, Selle e perfino Forza Italia. Antonio Di Pietro e Salvatore Sciocca in particolare hanno dichiarato espressamente il loro sostegno pieno a Paolo Frattura e a Matteo Renzi ma nella querelle non si è ancora capito se li faranno votare o meno. Comunque domani si sceglierà il nuovo segretario nazionale del PD e quattro componenti dell'Assemblea nazionale che verranno ripartiti tra le liste in competizione in rapporto alla percentuale dei voti rispettivamente riportati. I candidati alla segreteria nazionale che gli elettori troveranno sulla scheda sono Pippo Civati, Matteo Renzi e Gianni Cuperlo. Devono votare per Pippo Civati perché il PD deve essere un partito degli iscritti un partito autonomo, un partito che detta la linea e fa da pungolo alle scelte amministrative. Noi siamo per una completa scissione tra i ruoli istituzionali e i ruoli prettamente di partito. Votare Renzi significa cambiare la quotidianità di alcune cose che ci capitano aprire un asilo nido, riuscire a dare più ore di assistenza domiciliare a un anziano, semplificare la coda o i moduli di un pagamento di una tassa, un accesso a un'amministrazione. A me piacerebbe questo. Siccome lui è un sindaco, è abituato a rimettere a posto le cose concretamente e io da sindaco ho fiducia che ci riesca. Abbiamo bisogno di un partito che rimetta al centro i temi del lavoro, i temi degli ultimi, dei poveri. Queste sono le ragioni della candidatura di Cuperlo. Un partito collettivo. Noi il modello dell'uomo solo alla guida di tutto, del liderismo esasperato, l'abbiamo già vissuto in Molise con Michele Iorio, l'abbiamo vissuto in Italia con Silvio Berlusconi. Mi rendo conto modelli da cui magari provengono i sostenitori regionali di Matteo Renzi. Noi abbiamo un'altra storia, abbiamo un'altra cultura politica. Dunque, a poche ore dall'inizio della consultazione, il clima resta incandescente e da quando è dato sapere anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, attenderebbe segnali di pacificazione tra il Governatore e i vertici del PD prima di fissare la data della sua visita istituzionale al Molise. Comunque, gli iscritti e i simpatizzanti del PD, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, potranno votare domani dalle 8 alle 20 nei 92 seggi distribuiti su tutto il territorio regionale.